buongiorno a tutti benvenuti nel modulo lina risponde questo è il modulo numero 6 vi voglio ricordare che se volete poter avere il diritto di scaricare e usare il materiale che in questo momento leggo e poi ve lo metto nel nel video sotto dove sono i commenti dovete iscrivervi dovete fare quel bottone rosso dove è scritto iscriviti e tutto diventa automaticamente per questo finisco con gli annunci cominciamo con la nostra lezione la seconda parte della particelle d che sono i tre particelle strutturali diciamo se dobbiamo riassumere le particelle strutturali d d e d si pronunciano uguale nonostante che si scrivono in modo diverso e non siano intercambiabili la particella che abbiamo visto nella lezione prima nel modulo 5 d è più comunemente usata e segna l'attributo di solito sto dopo il modificatore dell'attributo passiamo alla prossima particella strutturale di solito è posizionato dopo l'attributo avverbiale cioè segnala l'avverbio allora questa particella si usa quando si aggiungono alcune parole d si formano le espressioni d e nella frase hanno la funzione di modificatore avverbiale questo in cinese sarebbe così allora il primo caso è avverbio bisillabico più d per esempio il primo esempio dice che gradualmente lentamente hanno familiarizzato zian zian e questo diciamo gradualmente d e la particella strutturale su si diventa familiare si sono conosciuti magari o magari si tratta anche dei animali uomo e così via allora ci l'hai dall'idea del movimento della relazione andiamo più in avanti fan fu de chan jiao fan fu de chan jiao fan fu vuol dire ripetutamente frequentemente de è la particella strutturale chan jiao chan jiao vuol dire sottolineare enfatizzare il secondo caso è sin ron zu sin chan feng jia de componente aggettivale più de l'esempio sono hen kwai de pao che vuol dire hen kwai è molto veloce de è la particella pao è correre correre veloce il secondo esempio shu shu fu fu da chuei jiao crogiolarsi nel letto in totale relax oppure addormentarsi shu shu fu fu è un raddoppiamento del shu fu che vuol dire totalmente in relax molto comodo cosi come si direbbe in inglese de è la particella e poi shu yi jiao e cioè si è addormentato il terzo caso è ge zion duan yu jia de frase corta cioè non completata più de qua l'esempio è così yu ji hua de jinsin yu ji hua de jinsin si tradurrebbe progredire oppure svilupparsi secondo il piano yu è avere ji hua è il piano de è la particella e jinsin vuol dire fare i progressi andare in avanti svilupparsi shou la shou de chiu chiu la uscivano con la mano nella mano chiu chiu la vuol dire uscire fuori shou la shou vuol dire tenersi per la mano de è la particella che praticamente li mette insieme il quarto caso è ni shen zu zia de onomatopeia più de esempio wu wu de kula wu wu è un diciamo modo di esprimere diciamo il pianto che wu wu vuol dire ancora per il suono del clacson di un'auto del fischio di un treno oppure del lamento di una persona e allora se lo dobbiamo tradurre così che è a pianto sarebbe a pianto disperatamente allora il secondo esempio è hua hua de xia chiu lai che vuol dire hua hua è l'onomatopeia per il rumore della pioggia o dell'acqua scrosciante xia chiu lai xia yu è la pioggia che cade qi lai è che diciamo l'azione della caduta invece loro hanno incastrato qi e lai tra xia yu è diventato hua hua de xia chiu lai ci sono queste espressioni che praticamente sono molto belli e si usano per dare diciamo un'espressione più diciamo più viva della immagine per esempio se lo dobbiamo tradurre si direbbe più doveva gorgogliando che questo non suona bene in italiano ma comunque è questo il gorgoglio che si sente dalla pioggia quinto caso è che sono i verbi bisilabici più per esempio che vuol dire sguardo di compassione toncin è la compassione sappiamo che quando mettiamo ci ha dato uno sguardo e poi il secondo esempio è li zie d dien la dien tau che vuol dire fare cenno con la testa per mostrare di aver capito dien la dien tau è un modo così che per dare idea che ha capito li zie è capire andiamo al sesto caso sono mosie min z zia d nome più d che l'esempio è li zhe da zian shen le zhe yi wei da shi ke che vuol dire li zhe è la storia de zian zhen è la la testimonianza zhe yi wei da questo wei da è grande shi ke shi che è il momento il momento storico se dobbiamo tradurlo in italiano sarebbe testimonianza di questo grande momento storico e il settimo caso è shu li z zia de che sarebbe quantificatore più de per esempio ig ig de si che vuol dire uno a uno scriveva potrebbe trattarsi delle persone che scriveva le lettere o magari le scriveva qualche biglietto e così via i ju ju de shuo questo vuol dire dicevo una frase dopo l'altro piano i ju ju de shuo ok poi ci sono due note che sono i seguenti allora dice dan n'in jie sin ron z huo fu z zu ju an yu shi don z cien pu zia de per esempio quando un aggettivo monosillabico o avverbio sono in funzione di modificatori avverbiali de si omette per esempio se diciamo manzou manzou che vuol dire camminare lento oppure ganlai ganlai vuol dire appena arrivato la seconda nota è zai muo xie fu z shuan yin zie xin ron z xin ron z chong jie xin shi ho muo xie gu ding shi hou de do ke yi shan lue ru shan mien de li z z z z z kwo ha de de quanto si trova nelle frasi semplici come nei punti 1 e 2 allora de può essere omesso quando si trova dopo alcuni verbi gli aggettivi bisilabici gli aggettivi raddoppiati oppure alcune strutture fisse per esempio la frase feng cin cin de chue z ha si an zai ga su u men chun tien la la il vento soffiava lievamente come si ci annunciasse all'arrivo della primavera oppure che la primavera è arrivata in questa frase de viene impiegato per formare de frase servendo come modificatore avverbiale l'aggettivo raddoppiato cin cin e modificatore avverbiale di chue di soffiare cin cin era lievemente invece chue e soffiare seconda frase da wei shu fa ga shawl davide alla febbre 39 8 gradi gli hanno fatto un'iniezione ad assonnato si addormentò in questa frase l'aggettivo raddoppiato mi mi hu hu è il modificatore avverbiale di chuei di addormentarsi mi mi hu è diciamo l'aggettivo raddoppiato che vuol dire che ha suonato ok andiamo alla terza particella che è de che questa particella invece sta tra un verbo oppure un aggettivo e il complemento cioè segnala il complemento per esempio nota bene su esse de che dice state attenti alla differenza tra il verbo de la particella de e il verbo dei verbo modale ok yonzai donz huo sin ron z ho lianzie pu yu de dice che de è usato dopo i verbi e gli aggettivi connettendo il complemento il primo caso è lianzie che non pu yu zuo pu yu de zhi xian yu dang de donz huo sin ron z fu din sin shi shi donz gia pu gia pu yu de connette il complemento che può essere soltanto verbo singolo oppure aggettivo la forma negativa è verbo più pu più complemento la negazione pu l'esempio tinda zian e poi la negazione tim pu zian che vuol dire sentire non sentire tindzian tindzian sappiamo che è sentire e zian è vedere comunque qua si usa come sentire e non sentire cinside ganjin cinsipu ganjin allora cinside ganjin che vuol dire lavare fino a rendere tutto pulito e non lavare abbastanza cinsipu ganjin il secondo caso è lianzie chendupu yu de connette il complemento di grado vediamo adesso quali sono il primo caso è donz huo sinronzi zia de zia sinronzi verbo oppure aggettivo più de più aggettivo per esempio siede quai che vuol dire scrivere velocemente pande kai diventato formoso ingrassato fino a diventare simpatico formoso il caso bi è sinronzi zia de zia hen aggettivo più de più hen how de hen che vuol dire molto buono invece di dire hen how si dice hen how de hen cinciu de hen che vuol dire molto chiaro andiamo a vedere il terzo caso che è donz huo sinronzi zia de zia duany huo xiao ju verbo aggettivo più de più frasi oppure la clausula gli esempi sono cande i cin ar chu che vuol dire vedere chiarissimo qua cande e poi c'è cinciu è diviso in due parti che sono intromessi tra di loro i e ar primo chiaro e secondo ancora più chiaro un po' per sottolineare come dicono loro chan jiao oppure emphasize allora andiamo a vedere il secondo caso luand xie yie zin pu chu dice che è così disordinato in tale punto che nessuno potrebbe entrare ok dai pu yu da don z pu nang zai dai le zi guo ie pu nang chong die il verbo con complemento non può essere seguito da le queste sono le particelle aspettuali zi oppure guo e neanche può raddoppiare per esempio non possiamo dire si e la da quai no e neanche possiamo dire cin si cin si pu ganjin anche qua non si può dire questi due ultimi frasi due esempi sono con uno x tra parentesi e io ho scritto no no per farvi capire che non si può usare e con questo io concludo questo modulo e vi auguro buon studio allora da zia zai zian zia yu no no Grazie.